Ciao io sono Luca di approcciola.it e in questo video parleremo di quanto conta il sesso in una relazione Per iniziare ti ricordo che dal 5 fino al 12 agosto 2021 è riaperta la guida anticonvenzionale per una relazione in coppia di successo È acquistabile sia singolarmente oppure gratis acquistando uno o qualsiasi dei miei videocorsi Dopo il 12 agosto 2021 ricordo che chiude di nuovo quindi non sarà più acquistabile di nuovo fino adatta da destinarsi Trovi tutte quante le informazioni cliccando sul link in descrizione oppure sul sito www.approcciola.it Se hai domande o dubbi c'è il mio team di esperti e ti puoi rispondere a qualsiasi domanda in qualsiasi momento Trovi i contatti del mio team in descrizione, c'è sia il numero di telefono per parlare a voce e anche il contatto whatsapp per parlare via messaggio Quindi parliamo di quanto è importante, di quanto conta il sesso in una relazione In questo caso mi riferisco a una relazione in coppia dove sei fidanzato con la ragazza In realtà relazione non vuol dire per forza relazione dove sei fidanzato Può anche voler dire una tromba amicizia È comunque una relazione, quindi semplicemente è una relazione diversa Poi ce ne sono anche tante altre categorie però noi stiamo adesso qua a vedere in questo video Però molto brevemente, piccola parentesi In una tromba amicizia è molto importante il sesso Perché la tromba amicizia si basa principalmente 99% sul sesso Anche su altre cose però, principalmente sul sesso In una relazione in coppia dove sei fidanzato con la ragazza Quanto è importante il sesso? È importantissimo comunque Quindi non è importante tanto quanto in una relazione In una relazione in coppia c'è anche molto la parte di appagamento sentimentale Ma comunque se manca l'appagamento sessuale Avrai uno, una ragazza che non è felice nella relazione Quindi può anche essere che rimane con te Però non vivrai bene la relazione proprio perché hai a fianco una ragazza che è infelice Oppure quello che succede invece molte volte è che a un certo punto la ragazza andrà con qualcun altro Quindi, ma non è che le ragazze tradiscono Ho già fatto di video su questo argomento I tradimenti in realtà non esistono È che prima ti sei perso la ragazza e poi dopo il primo pirla che passava se l'hai presa Ma non è che la ragazza ti ha tradito La ragazza in una relazione ha necessità di diverse cose Di appagamento sentimentale e di appagamento sessuale Mettiamo che la parte di appagamento sentimentale sia a posto Ma se non è appagata anche dal punto di vista sessuale Magari rimane con te nella relazione Però effettivamente va letto con altri Perché magari sta bene con te dal punto di vista sentimentale Le piace avere lo status di ragazza fidanzata Tutte quante le sue amiche sono fidanzate Quindi lei vuole rimanere fidanzata O magari sta con te anche per altri motivi Non so, è abbastanza lungo come discorso È trattato poi bene anche nella guida sulle relazioni Rimane con te però ogni tanto va letto con altri Oppure a un certo punto va letto con altri Con questi altri si trova o con questo altro Poi dipende anche da quanti sono Magari è un altro ragazzo A un certo punto magari questo altro Si trova molto bene con lui anche a livello sentimentale E la relazione con te a un certo punto finisce Quindi è molto molto importante L'appagamento sessuale in una relazione per una ragazza Ovviamente anche da parte dell'uomo Se per esempio con una ragazza io non mi trovo bene a letto Perché magari vedo che è troppo inesperta Non mi ci trovo bene E anche io Quindi io in realtà Qualsiasi uomo dovrebbe essere in grado di fare questa cosa Perché il discorso è abbastanza lunghi però Facciamoli brevemente Nel momento in cui tu hai capacità Di conoscerle ragazze quando ti pare Di portarti a letto Ragazze quando ti pare Se una ragazza non ti va bene Ci metti due secondi a scartarla Invece tanti uomini Siccome gli capitano ragazze per caso Non sanno effettivamente come si sono trovati con una ragazza Gli è capitata in qualche modo Gli è caduta dal cielo Per sbaglio Finiscono semplicemente per accontentarsi E anche se non stanno bene Poi in una relazione Si tengono la ragazza Perché non sanno poi effettivamente Come trovarsi a un'altra Quindi si condannano poi A una vita infelice Con una ragazza della quale In realtà non sono contenti Le ragazze sono molto più veloci A sganciarsi da una situazione Che non le va bene Quindi una relazione Che sia una trama amicizia Che sia una relazione in coppia Sono molto più veloci a sganciarsi Se la situazione non gli va bene Perché le ragazze di base Hanno abbondanza già normalmente Non devono fare azioni particolari Per avere abbondanza di ragazzi Un uomo sì Però in realtà Se paragoniamo uomo medio A donna media Ok La donna media Ha molte più opzioni Rispetto a un uomo medio Ma un uomo che invece impara Le dinamiche fra uomo e donna Un uomo che impara la seduzione Come si fa con le donne Ha un'abbondanza Che è veramente assurda Quindi bisogna ambire a questo Ad aver scelta Nel momento in cui poi Ti trovi male con una ragazza Per esempio a livello sessuale Io ci metto due secondi A semplicemente Non rispondo più Non è che le devo dire Ah non voglio più vederti Semplicemente Non le rispondo più Ma questi sono altri discorsi Quindi Un'altra delle cose importanti Da capire Per appunto capire L'importanza del sesso Perché appunto Poi adesso lo vediamo Che sono gli standard sociali Che fanno pensare All'uomo che Stanno in mente Un sacco di discorsi però Sono gli standard sociali Che fanno pensare All'uomo Che il sesso Non sia importante In una relazione Perché per esempio A livello di standard sociali Un uomo che va letto Con tante donne Viene acclamato come il figo Una donna che va letto Con tanti uomini Viene giudicata come la troia Come la zoccola Come quella facile Quindi tutte cose Non positive Quindi questa è la percezione sociale Non l'ho fatta io Non l'ho inventata io Che sia giusta Sbagliata Non ce ne frega niente E così Non si può cambiare Quindi una donna Deve essere molto cauta Nel far sapere Che ha un interesse Troppo esplicito nel sesso Non può far sapere Che mi piacerebbe Andare letto con tanti uomini Mi piace tanto il sesso Non lo può far sapere In maniera troppo Troppo esplicita E quindi l'uomo ci casca Quindi l'uomo pensa E no per lei Non è importante il sesso E tanti uomini Ci rimangono male Quando magari A un certo punto In una relazione Mi vengono in mente Tante cose Però Non voglio fare un video Chilometrico Però Tanti uomini Ci rimangono male Poi in una relazione Quando magari Sono qua Poi sull'orlo Non so come dire Separarsi Non per forza Perché sono sposati Magari anche quando Sono fidanzati A un certo punto Si stanno per lasciare Perché appunto La ragazza Non è appagata A livello sessuale Magari in un Impeto di Non so Di rabbia Di stress Alla fine la ragazza Gli dice Guarda Vorrei che facessi Queste cose A letto Però non le fai A me piacerebbe questo Quindi la ragazza Alla fine Sbotta E dice effettivamente Quello che le piacerebbe A letto E l'uomo ci rimane Molte volte sorpreso Ah ma io non pensavo Che ti piacessero Queste cose Ma io pensavo Fossi una brava ragazza Pensavo Non ti Pensavo L'uomo ci rimane Molte volte sconvolto Perché la ragazza Manifesta interesse nel sesso E ma le donne Hanno interesse nel sesso Tanto quanto l'uomo Se non anche di più Ma per gli standard sociali Non possono manifestarlo In maniera troppo esplicita Altrimenti Vengono giudicate Quindi l'uomo ci casca L'uomo poi pensa Che il sesso Non è importante Quindi poi performa Mal ha letto Non si concentra sulla ragazza E tutti i problemi Portano la ragazza Poi ad andare con altri A non stare bene con te A far finire la relazione Magari all'inizio L'ha pagato a via letto Poi sei andato in pensione L'altro errore comune Fanno tantissimi uomini Quando entrano in una relazione Dicono Beh a posto Sono in una relazione Non devo fare più niente E no Lì parte tutta una serie di dinamiche Per mantenere la ragazza Nella relazione Per mantenere una relazione felice Il discorso Appunto C'è la guida sulle relazioni È nata appositamente Da tutti questi problemi Oltretutto c'è anche la cosa Diciamo che è più o meno divertente Ho visto qualche meme divertente Recentemente Mi ha fatto vedere un mio amico Di come gli uomini Ha letto Pensano tutti quanti Di essere degli stalloni Se tu lo chiedi A qualsiasi uomo A qualsiasi amico Te ne puoi rendere conto Anche te Se magari qualcuno Ti mi ha chiesto Come sei letto Con la tua ragazza Come sei letto Con la ragazza Se magari è saltato qualche volta Fuori come conversazione Con i tuoi amici Al bar Non so Cose di questo tipo Tutti quanti gli uomini Sono degli stalloni Tutti quanti gli uomini Dichiarano Di essere degli stalloni E poi in realtà Non so come dire I risultati provano Che la cosa non è così Tutti quanti La maggior parte degli uomini Durano pochissimo A letto Non fanno raggiungere L'orgasmo alla ragazza Ci sono ragazze Che non sanno neanche Se hanno mai provato un orgasmo Perché evidentemente La maggior parte degli uomini Non sono in grado Di portare Una donna all'orgasmo Sempre per far capire L'importanza del sesso Quando per esempio Performi male letto Con una ragazza Che sia il primo appuntamento Il secondo appuntamento Il terzo appuntamento Quando ci va letto La prima volta intendo Se performi male La ragazza Molte volte non ti vuoi rivedere Questo è Quanto è importante il sesso In una In questo caso Non siete ancora in una relazione Ma è per capire Quanto le ragazze Danno in realtà Importanza al sesso Ma non lo possono Far sapere In maniera troppo esplicita Altrimenti Verrebbero giudicate Da te Dalla società Dagli amici Lì è anche in realtà Quella uno dei Diciamo Non so Dei trucchi Che non è un trucco in realtà Per portarsi a letto Le ragazze velocemente Ovvero non giudicarle Non è soltanto una cosa Che fai a livello di parole È proprio una cosa A livello di attitudine Resta un sacco di blocchi Sul sesso Pensi che far sesso A prima punta Sia da superficiali Pensi che stai fregando Pensi che il sesso Sia sbagliato Hai disagio Nel pronunciare la parola sesso Se tu vai a guardarti I miei primissimi video Io mi ricordo che Magari non lo noti Però Io ero a disagio Nel pronunciare la parola sesso Pubblicamente in un video A pronunciare la parola scopare Pubblicamente in un video Prova magari Quando sei da solo in casa Prova a pronunciare La parola sesso La parola scopare Ma quando sei da solo Noterai molte volte Magari abbassi un po' la voce Perché Magari mi sentono le persone Questo è tutto Denota blocchi sul sesso Che sono cose Poi si trasmettono Quando interagisci con le ragazze Sul fatto che la ragazza Percepisce giudizio Da parte tua E anche per quello Poi le ragazze Non si lasciano andare Io per quello appunto Riesco a fare molte volte Sesso al primo appuntamento Con le ragazze Perché le ragazze Percepiscono non giudizio Nel momento in cui La ragazza Percepisce giudizio Da parte tua Non si lascerà mai andare Al primo appuntamento E ripeto Non è una cosa Che fai a parole È una cosa Che la subcomunichi Non so come dire Con l'attitudine Con il carattere Anche tramite le parole Che dici Tramite i discorsi Che fai Però Nel momento in cui Non ti sei tolto Tutti quanti questi blocchi Sul sesso In realtà È abbastanza un problema Il fatto di non giudicare Le ragazze Sono discorsi Abbastanza lunghi Quindi se vuoi avere Delle trumamiche Oppure evitare Che la tua fidanzata Ti tradisca Tutte queste cose Molto spiacevoli Ti consiglio di imparare Come si fa Da pagare una donna a letto Lo puoi imparare Nella guida anticonvenzionale Sulla relazioni coppia C'è proprio una lezione Specifica Che dura circa un'ora Che spiega esattamente Come si fa a soddisfare Una donna a letto Ti ricordo che dal 5 Fino al 12 agosto 2021 La guida sulle relazioni È riaperta La puoi acquistare Sia singolarmente Oppure gratis Acquistando uno Qualsiasi dei miei videocorsi Dopo il 12 agosto 2021 Ricordo che la guida Sulle relazioni Chiude di nuovo Le informazioni Cliccando sul link In descrizione Oppure sul sito www.approcciala.it Se hai domande o dubbi Ci sono i contatti Del mio team In descrizione Puoi contattarli Sia via numero di telefono Quindi per parlare la voce Sia anche tramite Contatto whatsapp Per parlare via messaggio Quindi detto ciò Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao